Diciamo la corsa alla rieelezione in qualche modo. Inizia oggi la corsa, lo faccio con il senso del dovere di chi ha saputo corrispondere a un mandato degli elettori che era quello di rimettere la regione in grado di essere credibile e utile. Io credo che noi l'abbiamo fatto e poi, come si dice, nelle migliori bocciofili torinese e piemontese i punti si contano quando le bocce saranno ferme.